da organizzazione come nella norma, la partenza è fissata alle ore 10 in piazza della Vittoria e quindi tra poco vi chiederemo di avviarvi verso la partenza tra poco parleremo con Nicola Baranello, il presidente della Virtus per farci spiegare un po' che cosa è cambiato quest'anno rispetto all'anno scorso le iscrizioni al momento sono chiuse, i petturali sono terminati io aspetta, davide magri, va so che ora inizi di scaldamento Franceschi ci vediamo, bellissimo ciao Zulian, quando siamo belli ciao ciao No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Grazie a tutti Non ti preoccupare Sì, vai a sinistra Grazie Ciao Ma a me Buongiorno Buongiorno Atenzione ai paletti Forza, forza Atenzione ai paletti Atenzione ai paletti ragazzi Atenzione ai paletti Oh, oh, oh Paletti Atenzione ai paletti Atenzione ai paletti Grazie Atenzione ai paletti ragazzi Atenzione ai paletti ragazzi Atenzione ai paletti 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 Atenzione! 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 Grazie a tutti! Atenzione! 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 Grazie a tutti. 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 Ciao. 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 . Ciao. 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 Vai cazzo, guarda il caffè. Non è fotogelico. Salute, dai. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 Ciao. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Salute a tutti. Ciao. 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 No. Ciao. 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 . Ciao. 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 Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. 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 Sì.